300 isole sparse nel Pacifico, a sud dell'Equatore, formano l'arcipelago delle Fiji, situate tra Australia e Nuova Zelanda, una miriade di fazzoletti di terra rubati all'oceano. A nord del tropico del Cancro, le isole Fiji sono una delle nazioni più rappresentative dell'oceano Pacifico, grazie alla loro posizione predominante e alla ricchezza delle loro risorse. Queste isole hanno sempre esercitato un grande fascino. La bellezza delle candide spiagge, il mare turchese e per completare una barriera corallina, fanno da cornice a questo straordinario dipinto dei mari del sud.